Pablo Daniel Osvaldo e David Pizarro sono i due nomi caldissimi sul frontemercato per il Pescara. Due nomi di peso e che potrebbero far compiere qualora arrivassero un salto di qualità alla rosa disposizione di Massimo Oddo. Ma andiamo per ordine, come riportato ieri. David Pizarro si è svincolato dal Santiago Wanderers. Il Pescara però, prima di piazzare l'ultimo affondo, vuole verificare le condizioni del centrocampista cileno, che tecnicamente non si discute, ma bisogna accertarsi che a 37 anni l'ex Rome Udinese sia in condizioni accettabili per affrontare una stagione logorante in Serie A. Il presidente Sebastiani è pronto comunque a offrire un contratto non pesante, ma con una serie di bonus legati a risultati e presenze. Nei prossimi giorni Pizarro è atteso in Italia. Proseguono i contatti tra il Pescara e l'entourage che cura gli interessi di Pablo Daniel Osvaldo. L'attaccante italo-argentino chiede 700 mila euro più bonus. Il Pescara offre 500 mila euro più bonus. Resta questa la differenza da colmare, ma intanto su Osvaldo si è fiondato anche il Palermo di Zamparini, che sta facendo un pensierino sul giocatore, che si è svincolato dal Boca Junior lo scorso mese di maggio e attende la proposta giusta per potersi rilanciare nella massima serie. Per la difesa il nome nuovo degli ultimi giorni è quello del polacco Michael Pasdan del Lega Varsavia. Il difensore ha disputato un ottimo europeo con la sua nazionale, possiede esperienza e maturità giusta per completare il pacchetto arretrato bianca-azzurro. Un'alternativa allo slovacco Norbert Gjomber della Roma, la cui situazione resta incagliata sull'alto ingaggio percepito.